Torna il Pullman dei Parchi. Partirà infatti il prossimo 13 agosto la rinnovata linea di collegamento tra Roma e il Parco Nazionale d'Abruzzo, che sarà curata da San Gritana S.P.A. Due corse giornaliere, Roma-Pesco-Costanzo e Ritorno, con partenza alle ore 7.30 e alle ore 17, che toccheranno tre parchi abruzzesi, il Sirente-Velino, quello della Maiella e il Parco Nazionale. La tratta, che parte da Roma, prevede fermate a Celano, Pescina, Gioia de Marsi, Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Castel di Sangro, Rocca Raso, Rivi Sondoli e Pesco-Costanzo. Un servizio richiesto a gran voce dei territori montani, come sottolinea Maurizio Di Nicola, consigliere regionale con delega ai trasporti. È un piccolo segnale, per un piccolo periodo, ma che ci aspettiamo possa diventare stabile, per dare attenzione dedicata al trasporto turistico e a quei territori. Credo che il prezzo particolarmente competitivo di questa corsa potrà agevolarne l'uso e quindi anche tradurre in una soddisfazione per l'utenza questa nostra intuizione. Il rinnovato servizio viene presentato sul mercato con un nuovo marchio, Abruzzo Bus, candidato a diventare il simbolo del comparto commerciale di Tua, società di trasporto abruzzese, realizzato da Sangritana S.P.A. Dopo aver fuso in Tua S.P.A. le tre società pubbliche, Arpa, Tua e Sangritana, si è scelto adesso di gemmare Sangritana per il mercato e per i servizi commerciali, affinché potesse avere la flessibilità, la elasticità che deve avere un'impresa che deve competere con i privati tutti i giorni e sapersi modulare secondo quelle che sono le richieste dell'utenza. Pasquale Di Nardo, amministratore della società Sangritana S.P.A. Sangritana ormai è diventata l'anima che si occupa delle tratte commerciali. Qual è il progetto per il 2019 di questa società? L'iniziativa è il battesimo per quelle che sono le attività turistiche che testeremo, l'attività messa in campo ed eventualmente riproporla con i miglioramenti, con i suggerimenti che potranno venire in questi 30 giorni di sperimentazione per poter immaginare al ripristino delle attività turistiche invernali di poterci riproporre. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per poter guardare in termini positivi ad un risultato altrettanto positivo.